Non si esclude che siano di origine dolosa le cause dell'incendio che questa mattina si è sviluppato nella sala parati della stazione di Roma Tiburtina destinata a diventare il principale scalo romano, snodo dell'alta velocità. Lo snodo è fondamentale per la viabilità ferroviaria nazionale, sono già infatti pesantissime le ripercussioni sul traffico nazionale e alla stazione Termini. Allora ritorniamo in diretta dal nostro inviato Matteo Parlato che si trova sul posto. Buongiorno a tutti gli ascoltori di Rai News 24. Vi volevo dare notizia che poco fa l'amministratore di Trenitalia Moretti è venuto, ha fatto un rapidissimo sopralluogo e poi si è allontanato senza rilasciare nessuna dichiarazione ai giornalisti che avrebbero voluto sapere come mai il sistema antincendio non abbia funzionato o anche come mai i mezzi del Vigile del Fuoco non sono riusciti ad arrivare al ridosso dell'incendio come se la struttura non fosse stata pensata proprio per permettere ai mezzi di soccorso di entrare dentro. Comunque l'ufficio stampa di Trenitalia ha detto che stanno valutando e fra un po' uscirà un comunicato dove verranno date tutte le spiegazioni del caso. Il traffico è praticamente paralizzato, qui è passato poco fa un treno, abbiamo visto gli scambi, siccome per l'incendio sono state staccate la rete elettrica gli scambi sono movimentati in maniera manuale, questo qui è uno snodo fondamentale della rete fra nord e sud dell'Italia, anche fra est e ovest e questo incidente ha bloccato proprio un punto nodale. Qui passano quattro treni all'ora che per una stazione di questa portata è una cifra veramente ridicola ma dà il senso della crisi e di quanto in questo momento anche tutti i tecnici di Trenitalia stanno lavorando per alleggerire il traffico su questo nodo in modo da sciogliere il nodo, risolvere il problema, problema che però sicuramente ci vorranno giorni perché si torni alla normalità. Se non avete altre domande dalla stazione di Tiburtina vi restituisco la linea. Grazie, grazie a Matteo Parlato.